Controlli serrati nell'ex SNIA, l'industriale è dismessa nel centro di Varedo, 350.000 metri quadrati di rovine dove si nascondono spacciatori e clienti. Complice alla vicina stazione ferroviaria, il via vai si è fatto insostenibile. I carabinieri, insieme alla polizia locale, sono impegnati in controlli costanti. Nell'ultimo blitz, fermati 5 tossicodipendenti e un rumeno senza fissa dimora, sul quale pendeva un ordine di carcerazione. Questo intervento è per dimostrare ai cittadini di Varedo che l'amministrazione è presente, che l'arma dei carabinieri è presente, quindi che le forze dell'ordine sono presenti, ma questo devo dire da sempre. Con gli ultimi interventi si è cercato appunto di tamponare una volta ancora di più questo degrado che sussiste sia all'interno della SNIA che però poi si trasferisce anche su via Umperto I che è la via principale del comune di Varedo dove ci sono negozianti, commercianti e quindi cittadini che sono spesso travolti da questo degrado, che giustamente percepiscono un senso di insicurezza. Per attirare clienti dal Interland milanese, gli spacciatori accettano anche merce in cambio della droga. Recentemente abbiamo condotto queste due attività di accesso con svariati decine di militari della Compagnia di Desio per mappare l'area ex SNIA e quindi ricontrollare le aree già note come luoghi di spaccio istruvacenti. Sono stati identificati diversi cittadini che stanno comunitari ed in particolare tratto in arresto un soggetto rumeno colpito da un'ordine di carcerazione dell'autorità giudiziaria di Roma. Sicuramente la vicinanza della stazione ferrovaria all'area ex SNIA è un'opportunità tanto per gli spacciatori quanto per i consumatori di raggiungere agevolmente il sito ed è per questo che ci stiamo impegnando in una sistematica attività di controllo nella zona. Abbiamo anche monitorato, questo è vero, che le dosi non vengono pagate con moneta contante ma anche con forme di baratto e quindi dagli alimentari a articoli oggetto di furto.